Attenzione, il Covid-19 non è un malanno di stagione e quindi è sbagliato parlare di diverse ondate, come per l'influenza. Sarà una grande ondata, andrà un po' giù e un po' su. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi, ha detto la portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Harris. Ma è proprio questo su e giù che disorienta. L'Europa, che pensava di averla sfangata, ce l'ha ancora tra i piedi. Germania, Francia e Belgio hanno reintrodotto blocchi della circolazione, distanziamento e quarantena. Mentre il ministro degli interni tedesco, Seehofer, chiede ai concittadini di evitare Aragona, Catalogna e Navarra, regioni spagnole dove i contagi risalgono. Ma da dopodomani, obbligo di mascherina anche a Madrid. Ci vorrebbe ben altro negli Stati Uniti, che nel virus sono immersi fino al collo. Quasi 4 milioni e 300 mila casi e quasi 150 mila morti. Un quasi che sparirà presto, visto il trend. Lo stesso del Brasile, sempre secondo in classifica, con più di 2 milioni e 440 mila casi e oltre 87 mila morti. Ed è l'India che sta per toccare il milione e mezzo di contagi. Ma anche la Cina, da cui tutto è partito, non può dormire tranquilla. 68 nuovi casi, di cui 57 nello Xinjiang, dove la minoranza musulmana degli Uiguri viene perseguitata. E la paura è che il contagio si diffonda nei campi di internamento. Ma anche il cuore dell'Islam, la Mecca, subisce gli effetti della pandemia. Al pellegrinaggio rituale, l'Aj, che comincia domani, potranno partecipare solo 10 mila persone, mentre di solito ne arrivano 2 milioni e mezzo per pregare attorno alla Kaaba, la pietra nera.